Buonasera e grazie di aver invitato la città di Terrassa a questa giornata così importante per la difesa dell'acqua pubblica. Prima di raccontarvi della nostra esperienza nella battaglia per la gestione pubblica dell'acqua vorrei dirvi due parole sulla mia città. Se cerchiamo Terrassa su Google la prima cosa che troviamo è un riferimento all'epoca romana quando questa città si chiamava Egara. È un dato importante che ci dice quanto è antica questa città. Oggi siamo la terza città della Catalogna, ci troviamo a circa 30 chilometri da Barcellona e abbiamo 200.000 abitanti. Sono numeri e questi non bastano a dire del nostro spirito innovatore, imprenditoriale, della nostra volontà di lavorare. Abbiamo un ricco patrimonio architettonico e Terrassa è stata dichiarata città creativa dall'UNESCO. È anche una città nota per il cinema, per il festival del jazz e anche per le sue squadre sportive, i suoi atleti. Ad esempio Xavi Hernandez del Barcellona è nato proprio qui. Abbiamo anche un ricco patrimonio naturale, siamo circondati da un anello verde di oltre 4.500 ettari di bosco, di sentieri e c'è anche un parco naturale importante. Nel 92 siamo stati villaggio olimpico in occasione dei giochi olimpici di Barcellona e da allora la città non ha smesso di crescere. Abbiamo però cercato di tenere sempre in considerazione il territorio, di evitare l'eccessiva pressione urbanistica per mantenere le persone al centro delle nostre politiche municipali. Abbiamo anche avviato da anni la rivoluzione verde che ha proprio l'obiettivo di preservare l'ambiente, di aumentare il verde urbano, di tutelare la salute delle persone e anche di sensibilizzarle nei confronti della crisi climatica. La nostra sfida per i prossimi anni è quella di dare impulso a questa rivoluzione verde perché abbiamo vissuto una rivoluzione industriale importante ma adesso vogliamo proprio scommettere su questa rivoluzione verde e l'approvvigionamento di acqua in questo senso ha un ruolo fondamentale. Il nostro impegno in questo senso è nato nel 2016 grazie a un contesto politico positivo. Infatti 20 membri della giunta comunale su 27 sono riusciti a raggiungere un accordo storico per riportare la gestione dell'acqua nelle mani pubbliche. Quindi abbiamo creato un'impresa municipale, interamente municipale, che si chiama Taigua. E siamo diventati un riferimento a livello nazionale per la difesa, l'accesso all'acqua e anche per l'accesso a un'abitazione dignitosa per la lotta contro la povertà energetica. Vogliamo che prevalga la sovranità municipale, la sovranità della cittadinanza rispetto ai poteri economici, alle multinazionali, agli oligopoli. Perché l'acqua è un diritto essenziale e quindi bisogna fare in modo che le persone abbiano acqua a sufficienza, pulita e che l'acqua sia accessibile in ogni senso e che l'accesso sia universale senza limitazioni per ragioni economiche o sociali. Ora questo percorso è stato molto lungo e difficile, ci sono stati punti di divergenza con l'impresa concessionaria privata, ci sono state pressioni da parte delle lobby e in quell'epoca tutto il nostro partito si dimise, anche il sindaco si dimise e abbiamo voluto abbandonare quel tipo di politica e abbiamo deciso di creare un partito a livello municipale e questa decisione ci ha consentito di vincere le elezioni perché i cittadini hanno apprezzato il coraggio che abbiamo mostrato in quel momento. C'era assolutamente chiaro che era possibile perseguire un modello diverso nella gestione dell'acqua e volevamo appunto che il servizio pubblico prevalesse rispetto ai principi del risultato economico, volevamo trasparenza, partecipazione, volevamo raggiungere la sostenibilità. L'acqua è un diritto essenziale ma è anche un bene scarso, quindi volevamo promuovere un consumo responsabile grazie a delle misure specifiche e in questo senso l'approccio nostro era molto diverso da quello delle imprese private perché il nostro obiettivo era ed è quello di preservare l'acqua in quanto bene comune mentre invece per le imprese private l'acqua è una fonte di guadagni, una merce. Terassa ha ripreso nelle proprie mani l'acqua a marzo del 2018. Ancora oggi in realtà ci sono dei contenziosi aperti anche se abbiamo ricevuto un'ottima notizia perché la sentenza recente del Tribunale dichiara scaduta la concessione risalente al 1941 delle imprese private e quindi abbiamo di nuovo nelle nostre mani questo bene pubblico. Ovviamente ci sono stati ricorsi da parte di questa impresa pubblica ma si tratta in ogni caso di una sentenza esemplare in cui si vuole dire signori la concessione è scaduta lasciate che il comune faccia quello che ha il diritto di fare. Abbiamo quindi continuato a lavorare e nel 2018 è iniziata una nuova fase per Terassa. Siamo diventati uno dei comuni più grandi della Spagna ad avere una gestione pubblica dell'acqua e il nostro obiettivo è quello di migliorare l'efficienza, la sostenibilità, di progredire nelle politiche sociali, di garantire l'accesso universale all'acqua. Quello che abbiamo adottato è un modello di trasparenza in cui c'è un'assunzione condivisa di responsabilità. Abbiamo anche creato l'osservatorio dell'acqua di Terrassa che è un organo nuovo sia per Terrassa che per la Spagna e che partecipa attivamente a un carattere consultivo, deliberativo, propositivo. Quindi può fare proposte e può partecipare nelle decisioni del governo municipale e raccoglie in sé molti rappresentanti della società civile, di sindacati, di enti educativi e partecipa anche, lavora anche con gruppi di ricerca. In Catalogna di fatto la sua creazione è stata dichiarata una buona pratica proprio per la sua trasparenza, la partecipazione che garantisce. Queste di fatto sono caratteristiche distintive della ripubblicizzazione di questo servizio. Come dicevo vogliamo garantire l'accesso all'acqua a tutte le persone, soprattutto a quelle più vulnerabili. Proprio grazie alla ripubblicizzazione siamo riusciti ad essere più autonomi e più agili nelle nostre decisioni. Ad esempio in questo periodo di pandemia siamo riusciti in modo molto rapido, anzi in tre giorni, siamo riusciti a dare acqua a chi fino a quel momento andava a prenderla alle fontane. Nel 2020 inoltre abbiamo congelato le tariffe per i gruppi sociali più vulnerabili e abbiamo anche reso possibile un abbuono per intero della quota del servizio. Abbiamo anche provato una tariffa sociale automatica per le famiglie a rischio di esclusione e abbiamo preso diverse, adottato diverse iniziative per rendere possibile l'accesso all'acqua ai gruppi sociali più svantaggiati grazie a delle misure urgenti rivolte sia a privati che a commercianti. Abbiamo anche reso possibile per esempio posticipare il pagamento delle bollette e ridurre i costi. Queste altre misure straordinarie ovviamente non sarebbero state possibili se non ci fosse stata una gestione pubblica dell'acqua e sono un esempio evidente delle possibilità che offre questo tipo di gestione. Magari potessimo farlo anche con l'elettricità. Va ricordato che le politiche rivolte alle persone non sono incompatibili con i valori tipicamente impresariali di efficienza, di innovazione, di investimento. Anzi, essendo un'impresa pubblica possiamo sposare anche questi valori e possiamo collaborare tra municipio, impresa pubblica e osservatorio dell'acqua. E ancora per quest'anno abbiamo deciso di tenere congelate le tariffe e abbiamo avviato una revisione della struttura tariffaria attuale. Sappiamo ovviamente che è necessario migliorare l'approvvigionamento idrico e anche la qualità dell'acqua e del servizio che offriamo. Terraza è stata una delle prime grandi città ad avere lottato per l'acqua pubblica in Spagna e la nostra determinazione è stata un esempio anche per altri comuni in Catalogna. Per questo abbiamo creato un'associazione di comuni per l'acqua pubblica per difendere questo diritto perché anche se la legge riconosce che sono i municipi a dover decidere quale modello di gestione adottare, la verità è che le grandi imprese private in modo sistematico ricorrono in appello e mettono in discussione le decisioni prese dai comuni. Però ce l'abbiamo fatta e abbiamo ripreso la gestione pubblica dell'acqua. Siamo consapevoli del fatto che non è facile ma vogliamo continuare a difendere la sovranità locale, la volontà dei cittadini per mantenere la gestione pubblica di un servizio essenziale come l'acqua. Vogliamo costruire una città per tutti avvalendoci di tutti gli strumenti a nostra disposizione per difendere i diritti fondamentali dei nostri cittadini. Grazie